Cari amiche e cari amici, ieri il 17 maggio mi trovavo a fare la spesa parlando con una cassiera del supermescale, ho chiesto ma come mai non c'è più quella fila che c'era fino a una settimana fa? E lei mi ha detto perché i soldi cominciano a finire, dice anche i prodotti che vendiamo sono quelli a basso costo fondamentalmente e questa cosa veramente mi ha trafitto il cuore. Il governo dimentica, dimentica le promesse, dimentica gli impegni che aveva preso, i soldi, i sussidi non sono arrivati, ma quello che non dimentica, perché questo è impossibile dimenticare, è la giornata contro l'omofobia, il 17 maggio. E allora Mattanella dice, la ricorrenza del 17 maggio è stata scelta in ambito internazionale per promuovere il contrasto alle discriminazioni, la lotta ai pregiudizi e la promozione della conoscenza riguarda tutti quei fenomeni che per mezzo dell'omofobia, della transfobia, della bifobia perpetrano continue violazioni alla dignità umana. Queste discriminazioni sono da condannare perché basate sull'orientamento sessuale e costituiscono una violazione del principio di uguaglianza e ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana. Gli fa eco il presidente Conte che dice che questa giornata deve essere un momento di riflessione per tutti e poi scrive un tweet. Le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale ledono i diritti umani necessari a un pieno sviluppo della personalità umana. Queste discriminazioni sono contrarie alla Costituzione perché calpestano il valore fondamentale della dignità della persona e il principio di uguaglianza e si alimentano di pregiudizi che celano a ritratezza culturale. Per questo mi invito a tutte le forze politiche perché possano convergere su una legge contro l'omofobia che punti anche a una robustazione di formazione culturale. La violenza è un problema culturale e una responsabilità sociale. E quindi non dimenticano, il caro Conte, non dimenticano le discriminazioni. Volevo ricordarti, Conte, di passaggio, che io tempo fa avevo pubblicato un video dove c'era un gruppo di femministe estremiste, le femen, che con tanti giornalisti sono andate in Piazza San Pietro, indossavano solo un gonnellino, un gonnellino che era stato di 20 centimetri e quindi si sono piegate, avevano dei crocifissi in mano e se lo sono infilati nel sedere. Io mostravo queste fotografie e commentavo dicendo che comportandosi in questo modo in Piazza San Pietro queste femministe non si comportavano da esseri umani perché il loro comportamento era animalesco. Per questa affermazione il video è stato penalizzato, ho avuto una penalizzazione di sei mesi sul canale, mi sono state bloccate alcune funzioni in quanto sono stato accusato di fomentare odio, odio e razzismo. Allora caro Conte, ricordati degli omosessuali, ma ricordati pure che esiste un articolo 21 che recita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o altro mezzo di diffusione. E io qui su Youtube non posso dire 3000 cose e neanche aprirò i commenti sotto questo video perché sennò rischiano di farmi chiudere il canale. E quindi ricordiamo sempre le comunità LGBT, ma per il cittadino comune come me che si appella all'articolo 21 non c'è assolutamente scampo. Bene cari amici e cari per il mio lavoro sempre collati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.